Vabbè, ciao, muoio. Sì, cazzo. Dove cazzo sei? Ah, sta lontano? Io voglio prendere il C1. E ste palle come si distingono? L'azoto liquido per raffreddare la. Spara. L'elicottero spara. Ho preso un pilota! Ho preso un pilota delle elicottero! Non sono magari il giardino. Io sto registrato, non ti preoccupare, io sto registrato. Ah, ma che tu sei sentito scena, si. Ho, per primo, ho visto un po' la cane che sparava il brodo. La tazza spara. Ti ho mirato questo. Ah, 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 ah. Ah, a me che si può fare. Sì, sì, come non ho già fatto in avia. Sai cosa manca, però? Oddio, per sbaglio, ho beccato dei barini. Mancano i gradi. Ah, aspettisci, è congelato. Oddio. Ma questo pirino manca dei gradi. Tensione, questo è quello di Devo. Eh, sbloccare gli altri fucili. Sai quanti vedi ci saranno? E poi sicuramente non dico che ci saranno. Scappa, scappa, ci stiamo congelando qua, cazzo. Ma un 20x sicuramente ci sarà. Gi un po' giro. Sì, è successa. Noi. Vici.